Perché Adoniesis si fece invece fotografare da Eugenio? Perché scelse quel momento? Per poi arrivare a questo. Era l'inizio di un processo? Assolutamente sì. Per la foto non c'ha senso senza questa immagine. Perlomeno c'ha senso per noi perché amiamo, crediamo in Eugenio, però quella foto solo gli occhi. Infatti tanta gente scherniva un gatto, un finocchio, un maricon in spagnolo, di tutto gli hanno detto a quella foto. Degli occhi nessuno diceva niente. Adesso voglio vedere cosa dicono di questo. Diranno il ragazzo gay, il ragazzo calvo gay. No, non lo dicono. No, non lo dicono. È bellissimo questa immagine. Piace a tutti. È anche un'immagine artistica. Non è da insultare. E poi non scherzate con Adoniesis. Dico agli amici e ai nemici. Perché a lui non gli piacciono gli scherzi. È uno che non scherza mai. Quando scherza dice qualche battuta sempre riguardante la teologia. Quindi prenderlo in giro è controproducente. Condivido. L'ultima domanda, Giorgio. Poi è molto esigente perché è giusto. Parlo per me. Lui so che è generoso. Mi concede tutto ciò che mi concede l'amore dei figli, del cielo, i vuoi fratelli. Quindi qualsiasi cosa mi serve dal punto di vista materiale io ce l'ho. Io non mi posso lamentare di niente. Le mie sofferenze, la mia malattia è parte del segno delle stimmate. Anche la malattia che ho, che non c'entra niente con le stimmate. Sono onorato. Però Lui chiede una cosa Ma vuole che la faccia con tanto sacrificio e con tanta tanta Abnegazione. Il premio che mi dà dieci volte di più. Ma se dovessi tradire o disubbidire Faccio la morte seconda. Senza processo. Sì. Il pontifex maximus. Non posso, cioè io non sono, il patto che ho con questo essere è che tutto quello che mi serve lui me lo concede per fare l'opera. Ricchezza no, ma tutte le possibilità materiali per poter fare l'opera. La salute, l'amore della mia famiglia, dei miei fratelli. Qualche tradimento ci sta perché il percorso Cristico. Cristico, ma E quindi La condizione nel contratto che ho firmato con Adoniesis è che io non posso essere perdonato. Se sbagli, paghi. Quindi ogni sbaglio che faccio, anche piccolo, ricevo, devo pagarlo in forma minore. Se faccio uno sbaglio grosso, lo pago in forma maggiore e continuo nella missione. Se tradisco, non sono perdonato. E cioè io non posso essere come Gaspar Emutolo, come Giu, come Pietro. Se io tradisco, non ho perdono. Questa è la condizione che mi ha chiesto se voglio essere suo strumento. Io l'ho accettata. Quindi posso sbagliare, ma non è che mi dici va bene figliolo ti perdono. Hai sbagliato, paga e riprendi la missione. Quindi posso pagare con una sofferenza, con una malattia, che sbatto con la macchina. Sto facendo esempi. Ma non sono perdonato. Mentre è obbligatorio per me perdonare sempre tutti quelli che mi fanno del male. Se chiedono di essere perdonati lo devo fare automaticamente. Senza se e senza male. Hai capito com'è sto signore? Quello che ti dico per me non è ingiusto. Io, ogni fratello dovrebbe fare la stessa riflessione. Se in lui mi dà tutto. Allora, nell'ordine. Macchina. Provvidenza economica. Aria condizionata d'estate. Calore d'inverno. L'amore dei miei figli. Non c'è cosa più grande che tu possa avere per uno come me che ha lasciato la famiglia. Perché di fatto io ho lasciato la famiglia. Mi sono dedicato solo a questo. Invece le madri dei miei figli mi adorano. I miei figli mi amano. Cioè io che devo, che vuoi? La salute, sì, ho una malattia ma sotto controllo. I segni non mi fanno morire, anzi mi onorano. Ho tutti i confort della terra. Quindi se sbaglio, perché non devo pagare? Cioè io devo pagare. Anzi, con tutto il rispetto per il padre Adoniesis. Cioè io me la vado a cercare la pena. Perché non merito perdono per uno come me che ha tutto. Anche se sono cosciente che devo pure sbagliare. Però devo pagare l'errore. Io spero di continuare a sbagliare e pagare il minimo. Spero di non tradire. Ma se tradisco, non c'è bisogno che il padre mi dica non ti perdono. Da solo non mi perdono. Per tutto quello che ho avuto. Forse per questo capisco Giuda che si è suicidato. Però Giuda ha perso un'occasione che oggi non c'è. Io non sono Cristo. Perché Cristo avrebbe perdonato persino lui. Questo amore folle di questo essere che non capisco ma mi fa sconvolgere lo spirito. Perché lui supera la giustizia di Dio. Supera la giustizia di Dio, la perfezione. Lui è l'imperfezione perfetta dell'amore. Per questo ho detto sempre non c'è Dio senza Cristo. Perché Cristo avrebbe perdonato persino colui che il padre non avrebbe perdonato. Cioè Giuda. Siccome Giuda conosceva Doniesis. Dice questo tanto non mi perdono mi suicido. E invece no. Perché il Cristo incarnato rappresenta l'amore incondizionato dello spirito santo che è superiore al padre. E quindi cretino vai e chiedi perdono e ti salvi. Non c'è andato, non è stato perdonato. Però Gesù lo conosceva. Per questo ha detto era meglio che lui non fosse mai nato. Perché sapeva che Giuda seguiva la legge del padre e non del figlio. Invece io suggerisco di seguire la legge del figlio perché siamo imperfetti. Grazie Giorgio. Per questo il padre è venuto a trovarmi. Perché io amo al Cristo più di lui. E lui è felice. Bravo. Così devi fare. Penso che chiusura migliore di questa non ci possa essere. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi amici che avete seguito. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di un miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità. Filmati e ricerche su temi. Rimati. Fini 20 30 grazie a tutti. Grazie a tutti.